Nono giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Suor Teresa era devota di Sant'Agostino e questa preghiera rispecchia al meglio la sua vita. Per questo vogliamo iniziare con essa la nostra richiesta di grazie nella viva speranza che Dio la faccia partecipe della sua gloria in Paradiso. Vita per la quale vivo, senza la quale muoio, vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto, vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato. Vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile. Il tuo grande amore a Gesù sacramentato traspariva da tutto il tuo essere e rendeva la tua pietà viva, profonda, forte, intensa, semplice e serena. Gesù era per te Maestro, Padre, gioia, conforto e questa tua costante comunione con Lui ti rendeva a posto l'accorata e fervente dell'amore eucaristico. In virtù di questo tuo grande amore ti chiediamo di intercedere presso il Padre per noi che ti chiediamo la grazia di... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarsi dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Suor Teresa Valsei Pantellini, prega per noi. Invochiamo ora insieme l'intercessione di questa venerabile e chiediamo la sua glorificazione. O Gesù, che hai detto di imparare da te, mite umile di cuore, degnati di glorificare la venerabile Suor Teresa Valsei Pantellini, tua sposa fedele e generosa apostola. Concedi a noi le grazie che per sua intercessione ti chiediamo e fa che possiamo imitare la sua fede e la sua carità per amarti e lodarti in eterno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo.